Ragazzi prima di cominciare con il video voglio ricordarvi che abbiamo ripreso le giveaway dove regaliamo cripto brutto e gratis e quindi ogni lunedì annunceremo un nuovo vincitore della giveaway e spiegherò in qualsiasi momento durante il video come partecipare, quindi seguite il video fino in fondo e buona fortuna a tutti. E voglio anche ringraziare tutte e quante le persone che si sono iscritte al canale e se siete nuovi e potreste considerare l'iscrizione se non l'avete già fatto sarebbe assolutamente fantastico e quindi grazie mille e buona fortuna a tutti per la giveaway e adesso cominciamo con il video. Oggi parleremo di una delle cose più grandi che sono successe nelle cripto e cioè gli Stati Uniti stanno per scaricare sul mercato Bitcoin per un valore di 3,6 miliardi di dollari, parleremo di questo fatto ed esamineremo anche tutto quello che dovete sapere riguardo questo e parleremo anche di Bitcoin in generale e parleremo anche dei mercati tradizionali e di tutto quello che dovete sapere e quindi bentornati a tutti. Mi chiamo Marco, portano video riguardo alle cripto ogni giorno, mostrano come fare i soldi in questo mercato e se siete nuovi potreste considerare l'iscrizione e datevare anche la campanella sarebbe assolutamente fantastico. E quindi ragazzi prima di parlare del discorso del giorno, ovvero che il Dipartimento di Giustizia negli Stati Uniti ha sequestrato Bitcoin per un valore di 3,6 miliardi di dollari e cosa ne faranno? Bene, parliamo prima dei nostri grafici da 4 ore perché potete vedere che quando l'articolo è uscito ieri abbiamo visto una piccola discesa nel prezzo di Bitcoin e quindi siamo scesi dai 45 mila dollari il che è piuttosto sfortunato perché sembrava che stessimo davvero per superare questo livello a 45 mila dollari e fare una nuova spinta verso livelli più alti. Ma invece da allora siamo scesi nel mercato, abbiamo avuto un po' di turbolenza proprio in queste zone e ragazzi voglio anche passare ai mercati tradizionali perché i mercati tradizionali sono andati bene, voglio dire sono aumentati ieri, sono saliti sia ieri che oggi e quindi siamo nella fascia lancione proprio adesso e se riusciamo a superare questo livello e consolidare al di sopra di questo livello le cose andranno bene. Bene, voglio dire in generale sostengo quello che ho detto ieri, in generale le cose stanno andando abbastanza bene sia per Bitcoin che per l'SP500. E allora perché siamo andati giù ieri? Bene, il fatto è questo, quindi nel 2016 Bitfinex che era la più grande exchange di allora è stata hackerata e le persone che hanno hackerato Bitfinex hanno preso circa 120 mila Bitcoin da allora e voglio dire non è successo molto fino ad ora dove ieri è arrivato il dipartimento di giustizia con una dichiarazione in cui si afferma che hanno sequestato circa 108 mila Bitcoin che attualmente valgono 3,6 miliardi di dollari e due persone sono state accusate di aver tentato di riciclare questi Bitcoin e quindi è un evento enorme in sé ma ovviamente la paura per adesso è che per quanto riguarda questi 3,6 miliardi di dollari in Bitcoin che appunto vengono scaricati sul mercato dal dipartimento di giustizia ed è per questo che Bitcoin è crollato appunto. Ieri come abbiamo visto anche nei nostri grafici possiamo vedere appunto che il prezzo qui è crollato perché c'è della paura nel mercato e non abbiamo ancora chiarimenti su cosa accadrà con questi 3,6 miliardi di dollari. Potrebbero essere venduti dal dipartimento di giustizia, potrebbe essere questo il caso o potrebbero essere restituiti a Bitfinex, potrebbe anche essere questo il caso. E in tal caso Bitfinex ha rilasciato anche un loro token e quindi voglio mostrarvi il loro token della loro exchange perché se ottengono quei soldi potrebbero riacquistare Leo tokens e questo è il motivo per cui Leo è così alto oggi perché l'80% dei 3,6 miliardi di dollari entrerà appunto nel Leo token e quindi spingendo quel prezzo più in alto. E ora ovviamente non sappiamo se riceveranno i soldi, non sappiamo ancora nulla quindi avremo alcuni chiarimenti, si spera molto presto perché questo è un grosso grosso problema e voglio dire sono 3,6 miliardi di Bitcoin e se hanno intenzione di venderlo non andranno semplicemente su Coinbase e premono vendi spingendo il prezzo semplicemente verso il basso nel mercato. E ora ovviamente faranno ordini diversi e quindi non influerà molto sul prezzo di mercato di per sé a breve termine ma ovviamente tutto questo Bitcoin che entra in circolazione andrà o avrà ovviamente comunque sia una sorta di impatto a ribasso per il mercato. E quindi queste persone che possedevano Bitcoin per un valore di 3,6 miliardi di dollari, chi erano appunto questi hackers? Che tipo di genio aveva tutti quanti questi Bitcoin? Bene in realtà era semplicemente una ragazza e voglio mostrarvela perché questa è una delle persone appunto accusate, questa ragazza qui appunto di aver tentato di riciclare quei soldi e di averne il possesso. Quindi hanno effettivamente un account Dropbox, lei e suo marito, potete vederli in un articolo, lei si chiama Ilia Lichtenstein e lui si chiama Iter Morgan, potete vederli in questo articolo. In realtà avevano la chiave privata per questi 3,6 miliardi di dollari di Bitcoin, nessun account di archiviazione cloud come potrebbe essere Dropbox o Google Cloud o Amazon Cloud o altri ancora. E avevano la chiave privata in un documento di testo, quella chiave privata conteneva questi 3,6 miliardi di dollari, ma hanno effettivamente creato appunto loro Bitfinex. Non lo sappiamo, immagino che testimonieranno e faranno appunto un po' di chiarezza su questa situazione, ma la cosa è che questi ragazzi avevano 3,6 miliardi di dollari in Bitcoin sul loro laptop, in un documento di testo con una chiave privata che è completamente folle e lei è anche abbastanza conosciuta, lei è anche un canale YouTube. Ha cancellato tutti quanti i suoi video da questo canale, ma ha un canale YouTube, ha anche un canale su TikTok ed è una creatrice di contenuti. Ed è attiva anche su Twitter, quindi voglio dire questa cosa è completamente folle, ma immagino che avremo dei chiarimenti a riguardo, ma potete vedere che anche dopo aver ricevuto una notizia così negativa non siamo scesi dalla linea rossa appunto che abbiamo nel nostro grafico da 4 ore. Voglio mostrarvi che abbiamo mantenuto il prezzo, quindi questo sta rafforzando ancora una volta il pensiero di una tendenza un po' ralsista per adesso. E quindi continueremo a guardare questo ragazzi, continueremo a guardare se prenderanno appunto una decisione e comunicheranno quella decisione su cosa faranno con Bitcoin, ma vi terrò aggiornati in merito. Adesso stop un attimo il video, vi spiego come partecipare alla giveaway. Per partecipare alla giveaway dovete semplicemente essere iscritti al canale e rispondere a questa domanda nella sezione dei commenti. Quale pensate che sarà il punto più alto per Bitcoin quest'anno? Fatemi sapere nei commenti e inviate anche il vostro portafoglio di Binance Smart Chain, altrimenti non possiamo selezionarvi come vincitori. E giusto per chiarire basta inviare il portafoglio soltanto una volta, anche se si risponde a più domande o più video e noi controlleremo l'indirizzo tramite lo storico dei commenti. E quindi buona fortuna a tutti e adesso continuiamo con il video. Ed è per questo che non ho molte notizie di cui parlare oggi, perché ovviamente questo influenzerà molto il mercato. E immagino che avremo molti più chiarimenti anche oggi, quindi aspetteremo questi chiarimenti. E con questo livello di supporto enorme e a 42.000 dollari, come sapete, avete anche questi altri livelli di resistenza, come già sapete. Quindi se volete conoscere il mio piano esatto e i livelli appunto esatti a cui guardare e così vi assicuratevi appunto di guardare i miei video precedenti. E se volete anche ricevere dei bonus, come sempre abbiamo dei bonus per esempio su Bybit, potete ottenere un bonus fino a 4.530 dollari e potete usare il link appunto nella descrizione del video. E quindi assicuratevi di approfittare di questa offerta se volete iniziare a fare trading. E come sempre ragazzi, grazie mille per la visione di questo video e come sempre ci vediamo nel prossimo. Ciao a tutti!